Come negli ospedali ci sono gli sciacalli che lucrano sulle mascherine, nel calcio ci sono sciacalli che telefonano a club dicendo che loro hanno trovato la strada per non pagare i calciatori per causa di forza maggiore, poiché non si allenano e non giocano. Il presidente della Lega Pro Ghirelli prende atto della situazione che si sta venendo a creare in terza serie nazionale, dove più di una società non ha rispettato le scadenze per gli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio, quelli che andavano corrisposti entro il 16 marzo. A quanto pare nel Girone C sono almeno tre i club che non hanno rispettato le scadenze, inadempienze che fortunatamente non riguardano nessuno delle quattro società pugliesi, che a quanto pare sono tutte in regola. Il presidente della Casertana D'Agostino è venuto allo scoperto mettendoci la faccia, spesso si ricorreva all'azienda di famiglia ma la situazione non florida a causa del coronavirus si ha rallentato tutto, si legge tra le righe, con l'impegno a rispettare tutti gli impegni assunti. Situazione che si fa difficile con una penalizzazione dietro l'angolo per chi non ha ottemperato agli obblighi, i contributi sono slittati ad aprile ma gli stipendi dovevano essere pagati. Cosa succederà da adesso in poi? Dopo lo sforzo effettuato dalla Lega per anticipare risorse ai club e al valio una proposta condivisa con la FGC da presentare al governo, una richiesta di interventi tra cui anche una possibile cassa integrazione per i tesserati per poter permettere alle società di terminare la stagione con meno danni possibili e cercare di ripartire tranquilli dopo la tempesta più grande che il mondo del calcio sta affrontando almeno da 50 anni a questa parte.